Un investimento da 5,9 milioni di euro per dare dignità ad ogni giorno di vita. A Baggiovara, frazione di Modena, sorgerà il nuovo ospice per le cure pagliative nella ottocentesca Villa Montecuccoli, il cui progetto di restauro dell'architetto Francesco Gentilini ha già avuto il via libera dalla sovrintendenza per i beni culturali e già quest'anno è in calendario l'appalto per i lavori. Si tratta di una struttura che accoglierà pazienti con malattie avanzate, non solo oncologiche, non più responsive a trattamenti specifici e bisognosi di cure ma non attuabili a domicilio. E proprio in queste fasi è necessario comunque perseguire la migliore qualità di vita possibile del paziente e dei suoi familiari, alleviare il dolore, alleviare i sintomi e dare soprattutto dignità e valore ad ogni giorno di vita, anche agli ultimi giorni di vita. Biperbanca, che a Modena fonda le proprie radici, ha deciso di dare il via al progetto con un finanziamento da 300 mila Euro e poi attraverso il servizio di fundraising supporterà tecnicamente la fondazione ospice Modena, nata il 20 giugno del 2019, per la raccolta dei fondi necessari alla realizzazione del progetto. Oggi per me è uno dei momenti più qualificanti non solo della presidenza di Biper, ma anche della mia vita personale. Biper, che nasce come Banca Popolare di Modena, nel territorio ha una sua desinenza fortissima che ci permette di essere vicini a un'iniziativa che non solo è lodevole ma necessaria. L'ospice sarà dedicata a Cristina Pivetti, dottoressa scomparsa nel 2017. Noi vogliamo rendere umano anche i percorsi difficili della vita, con una casa straordinaria, piena di storia, che deve diventare la casa di accoglienza per le famiglie, per stare vicino ai propri cari e per vivere la vita da vivi.